Certamente. Dialogine. Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Salve! 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 e indietro, basta, 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 con questa guerra di morti di fame, la tua croce invoca il cielo, solo pace, avanti, avanti i soldati della mia gloriosa divisione, solo viene, solo viene, solo viene, solo viene. Grazie. Grazie. Grazie.